Iniziamo la nostra rassegna quotidiana per scoprire che cosa accade nella nostra bella città. Adesso parliamo di un festival che si chiama iFest. A partire da domani fino al 6 luglio, quindi dal 2 a Parco Simon Bolivar, succederà qualcosa di innovativo. Valerio Renzi, che è uno degli organizzatori, ce ne parla. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao, ciao. Allora, stiamo parlando di un festival completamente indipendente, promosso dalle reti sociali del territorio, ma chi lo organizza? L'organizza una serie di realtà sociali di questo territorio, un po' supe della desertificazione culturale a cui è condannata Roma, se sembra condannata Roma e in particolare i territori periferici della nostra metropoli. Per questo abbiamo deciso di fare questa iniziativa. è un'iniziativa che non ha un euro di finanziamento pubblico, si basa sul lavoro volontario e sulla passione di tanti attivisti e di tante persone di questo territorio. Siamo contenti di essere riusciti a mettere insieme un programma all'altezza di quello che volevamo fare. Lo slogan di questa prima, speriamo, fortunata edizione di iFest è la cultura deve essere un bene comune e non un lusso. Questo concetto si traduce nella volontà di non far pagare un biglietto di ingresso, se non sbaglio. Di fatto non tutti i giorni, perché chiaramente non avendo un euro di finanziamento pubblico, questa iniziativa ha chiaramente evidentemente dei costi, quindi sono due le serate a pagamento, comunque a 5 euro, in cui presentiamo l'unica data romana dello Stato sociale. Giovedì e venerdì una coppiata a Iovine, 99 post, e poi a chiudere il progetto radiofonico del danno del Colle del Fomento, che si chiama Welcome to the Jungle. Queste sono le uniche due serate a pagamento, le altre tre sono tutte quante a ingresso libero. Cominciamo proprio domani con Zero Calcare, che è un amico, che ha deciso di venire a presentare proprio in questa occasione, in anteprima, le tavole del nuovo libro che uscirà oltre, a cui seguiranno poi un reading delle poesie, delle storie, delle rime, dei poeti del trullo, che saranno lette da Gianni Palomba, Gio Germano, Loredana Cannata e tanti altri. Ecco, da queste due battute finali abbiamo capito che non si tratterà di un festival monotema, ma saranno tante le discipline artistiche che faranno la parte delle protagoniste? Sì, appunto, ci sarà questa prima giornata domani, poi diciamo le due giornate più musicali, mentre invece sabato faremo un'assemblea pubblica proprio sugli spazi e le politiche culturali nel nostro territorio e a Roma, a cui seguirà poi sul palco le performance a cura del Teatro Valle, e mentre domenica, che è il giorno di chiusura, è la giornata un po' più leggera, che si chiederà con un tango, con un aggiornamento di tango itinerante, organizzata dalle milonghe popolari di Roma, che comincerà da Piazza Sempione, ballando per le strade, arriverà proprio fin dentro il parco e sarà il momento conclusivo. Sono degli eventi che richiamano pubblici molto diversi, eh Valerio? Eh, il trittativo è fare una cosa per tutti e accessibile a tutti. Ci sono degli eventi, chiaramente, che richiamano un pubblico giovanile, ma speriamo, insomma, che possa essere un momento attraversato da tutti e tutti. Ecco, quindi no, mi incuriosisce tantissimo questa ultima data con Milonga e Tango, perché effettivamente le persone che parteciperanno saranno totalmente diverse, magari da coloro che verranno ad ascoltare i concerti di cui abbiamo parlato prima. Come vi è venuta questa idea? Avete deciso di unire diversi pubblici, sì, per dare una scelta più versatile? No, abbiamo deciso perché le Milonghe Popolari sono ormai, insomma, una realtà consolidata a Roma. Ballano ovunque, sono una cosa molto affascinante e molto bella anche da vedere, non solo per chi vi partecipa. Il fatto che poi lo si faccia per le strade, muovendosi per le strade, insomma, è ancora più affascinante. Chiaro. Senti, invece no, volevo andare proprio ancora più indietro, cioè la nascita di questo festival. Vorrei conoscere un po' meglio chi sono gli organizzatori, tra cui ovviamente ci sei tu, e vorrei sapere come è nato, se un giorno vi siete trovati, avete deciso di organizzare questa cosa, perché a volte sai che si comincia da un'idea, invece altre volte si comincia da un progetto che è già in piedi, e poi da lì si comincia poi a creare qualcosa intorno. Come è andata nel caso dell'iFest? In questo caso è andata che noi per tanti anni, sono tanti anni, sono ormai più di dieci anni, che facciamo attività politiche, sociali e culturali su questo territorio, un territorio che non ha un teatro, che ha un solo cinema, un territorio sul municipio con tanti abitanti, tante città medie italiane come Bologna, e in un momento di certificazione delle politiche culturali abbiamo ritenuto necessario fare questo passaggio anche per dimostrare che c'è bisogno di spazi, c'è bisogno di spazi per fare cultura, c'è bisogno di spazi e c'è bisogno anche di politiche adeguate, insomma, per questo è nata un po' questa sfida. Chiaro. Senti, quante persone più o meno vi aspettate? Si fanno delle proiezioni, no? A volte. Infatti fanno le proiezioni e aspettiamo, sappiamo che le date dello Stato Sociale stanno andando molto bene, fanno sold out in tutta Italia, spesso con prezzi anche decisamente diversi da quelli che proponiamo, e quindi insomma ci aspettiamo un gran bel concerto, soprattutto per un gruppo che abbiamo voluto moltissimo, che insomma sta facendo parlare di sé, sta facendo delle grandi belle cose, e li abbiamo già incontrati un paio di volte, insomma, e ci sembra, insomma, uno dei gruppi che ci dovevamo proprio avere, non solo perché fanno della gran bella musica, ma perché sono anche persone molto attente, molto attente e sensibile. Ecco, questo credo sia anche un po' il motivo per cui abbiate scelto altri personaggi che fanno sempre la parte dei protagonisti in tanti altri eventi legati alla cultura, in questo caso che deve continuare ad essere un bene comune e non un lusso. Come avete scelto le altre partecipazioni? Beh, diciamo che, appunto, altri poi sono anche degli amici, sono anche degli amici e dei compagni di strada da tanto tempo, a cominciare da Zero Calcare, a tante delle persone che poi seguiranno su quel palco quel giorno a leggere i poeti del Trullo, da Gianni Palomba, Elio, altri, sono dei compagni di strada, prima di tutto come sono i compagni di strada, i 99 poste, i ovine e danno, insomma, sono persone che conosciamo bene, che ci conoscono qui, c'è un legame di fiducia, c'è un legame di fiducia e quindi c'è venuto naturale chiamarli a partecipare e siamo stati, insomma, subito contenti anche dell'entusiasmo. Chiaro, senti Valerio, c'è un sito internet o comunque un posto dove andare a reperire delle informazioni? Un iFest Roma Tumblr e poi c'è una pagina Facebook. Ecco, e con i social network come interagirete? Avrete delle persone che si occuperanno di questo oppure preferite andare solamente nella relazione faccia a faccia? No, stiamo facendo, abbiamo, me ne occupo un po' io fondamentalmente perché me ne occupo pure per lavoro e quindi lo sto curando io questo aspetto. Chiaro, sì, sì, no, nel senso, farete delle dirette Twitter oppure, non so, su Instagram. Faremo delle dirette Twitter, Instagram, i cui canali saranno attivati oggi e poi chiaramente, insomma, su Facebook, le foto e quant'altro. Però sì, faremo entrambe le cose, abbiamo chiesto di aspettare un po' ad aprirli i canali, questi canali per farli vivere, insomma, contemporanei. Al festival cominceranno ad essere operativi oggi, che è proprio il giorno in cui cominciamo a montare. Benissimo, allora nel caso in cui non riuscissimo a partecipare potremmo sapere che cosa succede insieme ai social network, quindi che ci aiuteranno ad essere lì con voi. Grazie Valerio, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Abbiamo ascoltato Valerio Renzi, organizzatore dell'iFest, da domani fino al 6 luglio al Parco Simon Bolivar. Noi ci sentiamo tra pochissimo perché Voglio Vivere Così continua.